Siamo ormai alle porte della nascita di Gesù, il Natale. Sono tante le famiglie che tra gioia e difficoltà si preparano a questo giorno così bello per la cristianità e per il mondo intero. E anche quest'anno il Vescovo di Vallo della Lucania, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, ha scelto di inviare i suoi auguri attraverso un video messaggio rivolto ai fedeli e alle famiglie dei comuni del Cilento. Il Natale racconta di una storia che ci coinvolge tutti da vicino. Sono trascorsi più di due millenni eppure non invecchia mai. Questa storia ci fa posare lo sguardo su una famiglia che ha raggiunto Betlemme, cercando riparo e accoglienza per la nascita del proprio bambino, ma Betlemme trova tanti cuori chiusi. Eppure il Natale è una storia coinvolgente e avvolgente e ci offre la chiave per comprendere il modo di agire di Dio con e per l'umanità. Il Natale è la storia di Gesù, il Figlio di Dio, che è nato per dirci non sei solo nel cammino, spesso duro della vita. Non sei abbandonato quando ti affatichi per diffondere la pace, la comprensione, la solidarietà, quando ti impegni con tutte le tue forze ad affermare ciò che è giusto e vero per il bene di tutti. Non sei solo, perché io sono con te. Dopo tanti secoli la storia del Natale di Gesù ci affascina ancora e ci chiede come vivi oggi il mio Natale. Mie cari, auguri di pace e di serenità. E siate come Maria e Giuseppe e come i pastori di Betlemme, pronti ad accogliere Dio e a testimoniarlo con gesti semplici di fraternità e di condivisione. Buon Natale, care sorelle e cari fratelli.